bella raga ciao a tutti del comendone veneziano allora fiore oggi piccolo annuncio piccolo più che altro discorso su f1 che insomma bisogna che le vostre parere ragazzi della serie f1 ho visto tantissimi commenti positivi tantissime partecipazioni sono molto contento uno dei giochi più seguiti del momento sul mio canale quindi sono felicissimo però c'è un piccolo problema nel senso che tanti commenti quasi tutti tipo su 100 per dire 95 sono costruttivi che però devo migliorare che non devo essere scorretto che non devo fare queste cose qua allora ragazzi se volete questo io adesso per un bel po' non devo più registrare f1 perché devo allenarmi io purtroppo lo sapete comunque ho anche altre cose da fare quindi faccio fatica a mettermi tipo 2-3 ore per provare gli assetti perfetti le robe perfette tutto perfetto e allora devo caricare video anche con poco pratica e come si dice fare anche prestazioni non positive io adesso sono a livello professionista siamo messi bene in campionato però condivido il fatto che comunque non sto guidando come sull'altro f1 e che ogni tanto magari ci sono tali di curve un po' di cavolate varie un po' di soliti vaneggi comendiani allora ragazzi chiedo a voi volete devo continuare così e a sto punto non purtroppo non ascoltare i consigli o comunque non allenarmi come magari mi consigliate voi che invece vedo dei consigli allenati di più cerca di essere meno scorretto queste cose qua e la fioio o continuo così però chiaramente tanta gente marina è soddisfatta o invece mi fermo un po' mi alleno alla grande però chiaramente ci sarà un video ogni tanto o abbasso ancora il livello di difficoltà mi sembra ridicolo perché ora vinco con 82 anni di anticipo o non lo so ragazzi io chiaramente come sapete siete voi il tutto di questo canale quindi aspetto vostro parere ecco io mi metto proprio alle vostre decisioni lo sapete fioio cioè non ci sono problemi gli autogiochi fortunatamente ne ho tanti quindi possibilità di registrare non infinite a livello di giochi quindi il problema è che non ce la faccio a fermarmi troppo su un gioco perché se comincio a giocare tanto a formula 1 chiaramente non posso registrare gli altri giochi perché quel tempo è quello è che avete capito ragazzi è solo questo il discorso io non ho problemi cioè posso allenarmi tranquillamente di più però è chiaro che la po' vado a togliere tempo per altri giochi che so che c'è da NBA che sta comunque andando bene WWE tutti i giochi insomma che sapete del cumendone quindi ragazzi aspetto un vostro commento assolutamente se devo piuttosto lasciare un po' perdere formula 1 cioè allenarmi e fare meno video di F1 e riprendere quando sono più corretto più tranquillo e più tutto o se invece continuare così e quindi chiaramente prestazioni non proprio devastanti o così insomma ecco ragazzi quindi adesso voi sparate un bel po' di commenti poi vediamo quello che viene fuori viene fuori cioè senza problemi l'importante è insomma accontentare un po' tutti formula 1 ci sarà sempre e insomma cerchiamo di trovare un compromesso Cumenda Veneziano Cumenda Veneziano Cumenda Veneziano Lo Youtubers Italiano Cumenda Veneziano Cumenda Veneziano Cumenda Veneziano Lo Youtubers Italiano Cumenda Veneziano nya Terminato Come Comenda